A seguire ci sarà il loro direttiero a 353. Egli ha desiderato un cassa 4. Grazie. Va bene. Tranquilla. Muovi di piano. Voce. Voce. Adesso un po' di gamba. 3. U. Bene. Così. Fai un passetto avanti e poi entri piano piano. Vai, vai avanti. Ok. Abbia mano. Gamba. 3. Ok. Abbia avanti, piano piano, sposta il naso. Ok. Così. Mani giù. Senza esagerare. Così va bene, Ludo. Non di più. Tieni un po' di contatto. guarda avanti. Guarda avanti. Usa bene la gamba. Così. Pensa sull'ultimo quarto. Usa bene le mani. Guarda avanti. Voce. Guarda avanti. Corcia la retina esterna. Corcia la retina esterna. Non pensare adesso al cambio. Vieni avanti. Piano con la gamba. Vieni avanti. Adesso sposta. Yeah. Vai. Accorcia le retini. Mettiamola avanti. Accorcia le retini. Accorcia le retini. E non spingere. Guarda avanti. Tieni il naso. Accorcia le retini. E non spingere. Accorcia le retini. Guarda avanti. Tieni il naso. Voce. Yeah. Guarda dentro. Guarda dentro. Yeah. Non pensare al cambio. Pensa venire avanti. Pensa venire avanti. Piano. Ok. Super. Adesso devi ragionare. Ok. Piano. Piano. Ragionati. Nella fine. Aspetta. 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 Giù le mani. Roll deck. Ok. Super. Ludo devi venire più avanti. Ok. Aspetta. E poi vieni un po' più avanti. squadra bene. Aspetta. Aspetta. Più avanti. Gambe. Yeah. Guarda. Roll deck. Gamba. Anche l'ultimo eh. Aspetta ancora. Devi andare avanti. Vai avanti. Vai avanti. Ok. Dietro. Ok. Grazie.